Molti disservizi su funzionalità e accessibilità alla stazione ferroviaria di Fondotoce, che pesano anche sull'immagine che Verbagna vuole trasmettere al turista in arrivo nella città. Li segnala in una lettera indirizzata a RFI il sindaco verbanese Silvia Marchionini dopo le lamentele ricevute dai cittadini. Nella missiva viene spiegato ad esempio che, sebbene da parecchi mesi ne sia stata completata la ristrutturazione, la sala d'attesa per gli utenti che devono prendere il treno in direzione Milano non è ancora stata aperta. Tutti i viaggiatori sono tra l'altro costretti ad attendere il treno al freddo e sotto la pioggia, senza possibilità alcuna di potersi sedere, dal momento che non esistono panchine o altri tipi di seduta per farli accomodare. Ancora Marchionini aggiunge che il nuovo ascensore non è stato ancora messo in funzione, nonostante il suo accorato sollecito inviato, sempre all'attenzione dell'ingegnere Spirolazzi, destinatario anche di questa nuova missiva, lo scorso 26 di marzo. Questa situazione non è più gestibile, conclude il sindaco di Verbania. Troppi disagi che pesano sia sui pendolari che si recano ogni giorno a Milano per lavoro o per motivi di studio, sia sulle persone più fragili, sui turisti e su tutta la comunità.